Comunque, il dottor Urbino non era felice quel mattino, quando era tornato a casa prima delle dieci, frastornato dalle due visite che non solo gli avevano fatto perdere la messa di Pentecoste, ma che minacciavano di cambiarlo a un'età in cui tutto ormai pareva compiuto. Avrebbe voluto fare una siesta da cane finché fosse arrivata l'ora del pranzo di gala del dottor Lassides Oliveglia, ma aveva trovato la servitù in agitazione mentre cercavano di afferrare il pappagallo che era volato fino al ramo più alto dell'albero di mango quando lo avevano tirato fuori dalla gabbia per tagliargli le ali. Era un pappagallo spelacchiato e maniaco che non parlava quando glielo chiedevano, bensì nelle occasioni più impensate, ma allora lo faceva con una chiarezza e un uso della ragione che non erano molto comuni negli esseri umani. Era stato ammaestrato dal dottor Urbino in persona e questo fatto gli aveva reso dei privilegi che nessuno aveva mai avuto in famiglia, neanche i figli quando erano piccoli. Era in casa da più di vent'anni e nessuno sapeva quanti ne avesse vissuti prima. Tutti i pomeriggi, dopo la siesta, il dottor Urbino si sedeva con lui nella terrazza del patio, che era il posto più fresco della casa, e aveva fatto ricorso ai mezzi più ardui della sua passione pedagogica finché il pappagallo aveva imparato a parlare il francese come un accademico. Poi, per puro vizio di virtù, gli aveva insegnato a seguire la messa in latino e qualche brano scelto dal Vangelo secondo San Matteo e aveva cercato, senza fortuna, di inculcargli una nozione meccanica delle quattro operazioni aritmetiche. Da uno dei suoi ultimi viaggi in Europa, aveva portato il primo fonografo a tromba, con molti dischi di moda e dei suoi compositori classici preferiti. Giorno dopo giorno, parecchie volte, per vari mesi, faceva ascoltare al pappagallo le canzoni di Yvette Gilbert e Aristide Bruon, che avevano fatto le delizie della Francia nel secolo scorso, finché le aveva imparate a memoria. Le cantava con voce femminile se erano quelle di lei e con voce da tenore se erano quelle di lui, e concludeva con delle sganasciate libertine che erano assolutamente identiche a quelle delle domestiche quando lo sentivano cantare in francese. La fama delle sue grazie era arrivata così lontano che a volte alcuni visitatori ragguardevoli, che venivano dall'interno sui battelli fluviali, chiedevano il permesso di vederlo, e in un'occasione dei turisti inglesi, tra i molti che passavano a quell'epoca sulle barche di banane di New Orleans, avevano cercato di comprarlo a qualsiasi prezzo. Ma il giorno della sua gloria maggiore era stato quando il Presidente della Repubblica, Don Marco Fidel Suárez, e tutti i ministri del suo gabinetto erano venuti in casa a verificare la verità della sua fama. Erano arrivati verso le tre del pomeriggio, soffocati dai cappelli a cilindro e dalle finanziere di panno che non si erano levati in tre giorni di visita ufficiale sotto il cielo incandescente di agosto, e avevano dovuto andarsene curiosi come erano venuti, perché il pappagallo si era rifiutato di dire persino «Questo becco è mio!» in due ore di disperazione, malgrado le suppliche e le minacce e la vergogna pubblica del dottor Urbino, che si era invischiato in quell'invito temerario contro i saggi consigli di sua moglie. Il fatto che il pappagallo avesse mantenuto i suoi privilegi dopo questo sgarbo storico era stato la prova finale della sua sacra prerogativa. Nessun altro animale era permesso in casa, salvo la tartaruga di terra che era ricomparsa in cucina dopo tre o quattro anni in cui l'avevano creduta perduta per sempre. Questa, però, non si comportava come un essere vivo, ma piuttosto come un amuleto minerale, per la buona sorte, di cui non si sapeva scientificamente dove andasse. Il dottor Urbino si rifiutava di ammettere che odiava gli animali e lo dissimulava con qualsiasi tipo di favole scientifiche e pretesti filosofici che convincevano molta gente, ma non sua moglie. Diceva che quelli che li amavano eccessivamente erano capaci delle peggiori crudeltà con gli esseri umani. Diceva che i cani non erano fedeli ma servili, che i gatti erano opportunisti e traditori, che i pavoni reali erano araldi della morte, che gli ara erano solo impiastri ornamentali, che i conigli fomentavano la cupidigia, che i mandrilli contagiavano la febbre della lussuria e che i galli erano maledetti, perché si erano prestati a negare Cristo per tre volte. Invece Fermina D'Asa, sua moglie, che allora aveva 72 anni e aveva ormai perduto l'andatura da cerva di altri tempi, idolatrava irrazionalmente i fiori equatoriali e gli animali domestici e, nei primi tempi del matrimonio, si era approfittata della novità dell'amore per tenerne in casa molti più di quanti consigliasse la ragione. I primi erano stati tre dalmati, col nome di imperatori romani, che si erano fatti a pezzi fra di loro per i favori di una femmina che aveva fatto onore al suo nome di Messalina, dato che indugiava più nel partorire nove cuccioli che nel concepirne altri dieci. Poi era stata la volta dei gatti abissini, con profilo da aquila e modi faraonici, i siamesi strabici, i persiani cortigiani dagli occhi aranciati, che passeggiavano sui letti come ombre di fantasmi e sconvolgevano le notti con i gridi dei loro sabba d'amore. Per qualche anno, incatenato al mango del patio, c'era stato un mandrillo dell'Ammazzonia, che suscitava una certa compassione perché aveva le sembianze afflitte dell'arcivescovo Obdulio Irei e lo stesso candore dei suoi occhi e l'eloquenza delle sue mani, ma non era stato per questo motivo che Fermina d'Asa se ne era liberata, quanto per la sua cattiva abitudine di compiacersi in onore delle signore. C'era ogni tipo di uccelli del Guatemala nelle gabbie dei corridoi e aeroni premonitori e altri da pantano, con le zampe grandi e gialle, e un giovane cervo che si affacciava alle finestre per mangiarsi gli anturi dei vasi di fiori. Poco prima dell'ultima guerra civile, quando si era parlato per la prima volta di una possibile visita del papa, avevano portato dal Guatemala un uccello del paradiso, che aveva tardato molto più a venire che a tornare nella sua terra, quando si era saputo che l'annuncio del viaggio pontificio era stata una panzana del governo per spaventare i liberali che tramavano fra loro. Un'altra volta avevano comprato sui velieri dei contrabbandieri di Curaçao una gabbia di fil di ferro, con sei corvi profumati, uguali a quelli che Fermina d'Asa aveva avuto da bambina nella casa paterna e che voleva continuare ad avere da sposata. Ma nessuno era riuscito a sopportare i continui battiti d'ali che saturavano la casa con i loro effluvi di corone da morto. Avevano portato anche un'anaconda di 4 metri, i cui sospiri di cacciatore insonne perturbavano l'oscurità delle camere da letto, anche se con lui avevano ottenuto quello che volevano, cioè spaventare col suo fiato mortale i pipistrelli e le salamandre e le numerose specie di insetti nocivi che invadevano la casa nei mesi di pioggia. Al dottor Juvenalo Urbino, a quell'epoca così richiesto per i suoi obblighi professionali e così indaffarato nelle sue promozioni civiche e culturali, bastava supporre che in mezzo a tante creature abominevoli, sua moglie non fosse solo la più bella nell'ambito del Caribe, ma anche la più felice. Ma un pomeriggio piovoso, verso la fine di una giornata spossante, aveva trovato in casa un disastro che lo aveva fatto tornare alla realtà. Dal salone, fin dove arrivava la vista, c'era un rigagnolo di animali morti che galleggiavano in un pantano sanguinolento. Le domestiche, arrampicate sulle sedie senza sapere che fare, non si erano ancora rimesse dal panico della carneficina. Il caso aveva voluto che uno dei mastini tedeschi, impazzito per un improvviso attacco di rabbia, avesse fatto a pezzi ogni animale di qualsiasi tipo che gli aveva incontrato sul suo cammino, finché il giardiniere della casa vicina aveva avuto il coraggio di affrontarlo e lo aveva fatto a pezzi a colpi di macete. Non si sapeva quanti ne avesse morsi o contagiati con le sue schiume verdi. Così il dottor Urbino aveva ordinato di uccidere i sopravvissuti e di incenerirne i corpi in un campo lontano e aveva chiesto ai servizi dell'ospedale della misericordia una disinfezione della casa. L'unica che si era salvata, perché nessuno si era ricordato di lei, era stata la tartaruga della buona sorte. Fermina Daza aveva dato ragione a suo marito per la prima volta in qualche argomento domestico e si era preoccupata di non parlare più di animali per parecchio tempo. Si consolava con le incisioni colorate della storia naturale di Linneo che aveva fatto stampare e attaccare alle pareti della sala e forse avrebbe finito per perdere le speranze di vedere ancora un animale in casa se non fosse stato che una mattina i ladri avevano forzato una finestra del bagno e si erano portati via il servizio di argenteria ereditato da cinque generazioni. Il dottor Urbino aveva messo doppi catenacce ai aneri delle finestre, aveva assicurato le porte dall'interno con spranghe di ferro, aveva nascosto le cose di maggior valore nella cassaforte e aveva preso la tardiva abitudine bellica di dormire con la pistola sotto il cuscino ma si era opposto all'acquisto di un cane feroce. Vaccinato o no, libero o alla catena, anche se i ladri lo avevano spogliato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.